Ciao, oggi vi mostro come realizzare una coperta tutta lavorata a punto legaccio e vedete però che la trama del punto è in diagonale perché questa è una costruzione abbastanza semplice che parte dal vertice, prevede di fare degli aumenti e si possono ottenere due forme, sia il rettangolo che il quadrato come vedrete, per ottenere il quadrato semplicemente noi aumenteremo e a un certo punto, quando avremo raggiunto la nostra larghezza dovremo tornare indietro facendo delle diminuzioni per formare il rettangolo invece, a un certo punto, quando avremo raggiunto la larghezza che desideriamo continueremo a lavorare sempre in diagonale, però senza fare più aumenti e a un certo punto cominceremo le diminuzioni e in questo modo otterremo un rettangolo questo è solo un piccolo campione, ma si possono ottenere coperte di tutte le dimensioni e appunto sia quadrate che rettangolari adesso vi faccio vedere come si lavora allora, per cominciare il nostro lavoro, dobbiamo avviare 4 maglie e potete utilizzare il metodo di avvio che preferite io di solito uso l'avvio filo doppio, quindi faccio il mio cappio che sarà la mia prima maglia e vado ad avviare 4 maglie 1, 2, 3 e 4 ok quello che dobbiamo fare adesso è il ferro che ripeteremo per tutta la prima parte di questa lavorazione e consiste in questo posizione io adesso lavoro con il filo a sinistra, ma potete tranquillamente lavorare con il filo a destra ed è uguale allora, lavoriamo le prime due maglie a dritto quindi 1 e 2 sulla terza maglia dobbiamo andare a creare un aumento e faremo l'aumento barrato quello che si chiama anche dritto davanti e dietro in inglese lo trovate come knit front and back quindi, che cosa succede? dobbiamo letteralmente lavorare la stessa maglia due volte quindi, inserisco il ferro lavoro a dritto ma, invece che fare cadere la maglia giù dal ferro come farei di solito lascio la maglia sulla punta di sinistra sposto la punta di destra dietro e lavoro questa maglia nuovamente prendendola da dietro, cioè a dritto ritorto quindi, getto il filo e lavoro chiudendo il punto vedete che da due maglie che avevo prima adesso ne ho quattro lavoro fino alla fine del ferro che in questo caso è una maglia sola e poi giro il lavoro e ripeto la stessa cosa quindi lavoro a dritto le prime due maglie quindi, uno e due sulla terza maglia vado a creare l'aumento quindi, lavoro a dritto mantengo la maglia sul ferro sposto la punta da davanti a dietro e lavoro nuovamente la maglia dritto ritorto e poi vado fino alla fine del ferro ok, di nuovo 2 maglia dritto aumento sulla terza maglia lavoro a dritto mantengo la maglia sul ferro sposto la punta di destra dietro e rinfilo la stessa maglia dritto ritorto e vado alla fine del ferro allora, continuiamo in questo modo fino a raggiungere la larghezza che vogliamo comunque, vado avanti ancora un pochino e poi vi faccio vedere come si presenta il lavoro dopo che abbiamo aumentato un po' di maglie e poi parliamo di come proseguire allora, ecco come si presenta il lavoro dopo che siamo andati un po' avanti con gli aumenti vedete che sta prendendo forma si vede benissimo la lavorazione diagonale e allora, come funziona la costruzione? noi dobbiamo andare avanti a fare gli aumenti come abbiamo fatto fino adesso fino a raggiungere la larghezza che abbiamo stabilito per il nostro lavoro perché una volta raggiunta la massima ampiezza dobbiamo cominciare a fare le diminuzioni per ottenere una forma speculare dall'altra parte questo per ottenere una forma quadrata se invece vogliamo ottenere una forma rettangolare dobbiamo continuare a lavorare sempre quando abbiamo raggiunto la nostra larghezza desiderata dobbiamo continuare a lavorare facendo da una parte una diminuzione e dall'altra un aumento perché dobbiamo mantenere sempre lo stesso numero di maglie perché noi non vogliamo più allargare il lavoro ma lo vogliamo allungare per ottenere un rettangolo quando abbiamo raggiunto diciamo una certa altezza allora cominceremo a fare solo le diminuzioni come facciamo per la forma quadrata allora vi faccio vedere come si fa a continuare il lavoro se vogliamo ottenere una parte rettangolare ecco vi faccio rivedere il campione vedete quindi è come se noi fossimo a questo punto qui ho fatto un rettangolo quindi vuol dire che a un certo punto ho continuato a lavorare lo stesso numero di maglie per crescere in altezza e da un certo punto in avanti con le diminuzioni ho ottenuto l'altro lato del rettangolo allora per la forma rettangolare vi consiglio di prendere un segna maglia e attaccarlo su uno dei due bordi questo vi aiuterà a capire su quale bordo dovrete fare le diminuzioni e invece su quale altro bordo fare gli aumenti quindi per la forma rettangolare dobbiamo muoverci in questo modo lavoriamo sempre le prime due maglie a questo punto invece che eseguire l'aumento dobbiamo eseguire una diminuzione semplicemente lavorando due maglie insieme a dritto quindi la terza e la quarta maglia le infilo contemporaneamente a dritto e le lavoro in questo modo ho creato una diminuzione lavoriamo fino alla fine del ferro ecco sono alla fine del ferro quindi giro il lavoro da questo lato che è quello dove non abbiamo il segno continuo a fare gli aumenti come ho sempre fatto quindi lavoro la prima maglia la seconda e la terza è quella dove faccio l'aumento dritto davanti e dietro e adesso lavoro fino alla fine del ferro ecco allora siamo tornati di nuovo sul bordo dove avevamo appeso il segno a maglie questo vuol dire che abbiamo fatto un ferro dove abbiamo diminuito abbiamo voltato il lavoro e abbiamo fatto un ferro dove invece abbiamo aumentato quindi per ottenere la forma rettangolare continuiamo ad alternare questi due ferri quindi in uno diminuiamo e nell'altro aumentiamo fino ad ottenere l'altezza che desideriamo per avere la forma rettangolare se invece della forma rettangolare vogliamo ottenere una forma quadrata nel momento in cui abbiamo raggiunto la massima larghezza che volevamo ottenere cominciamo a fare le diminuzioni invece degli aumenti quindi invece che aumentare la terza maglia sostituiamo l'aumento con una diminuzione quindi lavoriamo insieme a dritto la terza e la quarta maglia su ogni ferro questo vuol dire che ad ogni ferro il numero di maglie diminuirà e otterremo in questo modo una forma speculare a quella che abbiamo ottenuto partendo dall'inizio fino ad arrivare alla massima estensione faremo queste diminuzioni fino ad ottenere 4 maglie allora per aiutarvi a capire come prendere le misure del progetto vi aiuto con il metro allora questo è il lavoro che noi abbiamo avviato e questa è la lavorazione fino a quando abbiamo continuato a fare gli aumenti nel momento in cui io ho cominciato a fare diciamo i ferri che servono per ottenere il rettangolo il mio lavoro dalla massima larghezza ha cominciato a curvarsi e mantenendo sempre la stessa misura ha cominciato a salire quindi vuol dire che fino a qui io guardate fino a qui io ho fatto gli aumenti e quindi ho ottenuto circa una larghezza di 12 vedete per ottenere il quadrato io avrei dovuto cominciare a fare le diminuzioni e ottenere una punta esattamente speculare qui però ho fatto qualche giro che mi permette di dargli una forma rettangolare quindi vuol dire che la misura 12 vedete è sempre rimasta costante nel momento in cui io da un lato facevo la diminuzione e dall'altra parte cominciando un nuovo ferro facevo l'aumento quindi il numero di maglia non variava e il lavoro semplicemente cresceva in altezza cosa succede che questa misura diciamo questa è la misura della larghezza del mio rettangolo quindi se io continuo a lavorare in questo modo creerò un rettangolo che ha una base di circa 9 e avrà l'altezza che voglio perché questo è il lato dove io vado a misurare l'altezza del mio lavoro quindi se volevo un rettangolo largo 9 e alto 10 questo è il punto dove io devo cominciare a fare solo i ferri di diminuzione infatti è quello che ho cominciato a fare vedete che il lavoro adesso qui sta cominciando a curvarsi perché si verrà a creare questo bordino e contemporaneamente questo comincerà a salire e quindi il lavoro si chiuderà in questo modo vi faccio vedere di nuovo com'è il ferro di diminuzione che è quello che ci serve sia per fare la forma quadrata che quella rettangolare quindi lavoro la prima maglia la seconda la terza e la quarta le prendo e le lavoro insieme a dritto e questo è il ferro che devo ripetere fino a ottenere solo 4 maglie allora sono andata avanti con le diminuzioni e mi sono rimaste solo 5 maglie quindi faccio l'ultimo ferro di diminuzione quindi terza e quarta lavorate insieme a dritto ok ora che mi sono rimaste solo 4 maglie che sono le stesse che avevamo avviato all'inizio del lavoro posso andare a intrecciare le maglie quindi chiudiamo le maglie come quando terminiamo tutti i nostri progetti mentre c'è una sull'altra ok quindi vedete questo è il lavoro terminato ovviamente per ottenere una forma ben squadrata il lavoro va ovviamente bagnato è bloccato con gli spilli comunque come fate di solito per bloccare il lavoro ciao ciao